Ciao a tutti, e benvenuti sul mio canale AC News. Con questo video, vi porto le anticipazioni di Terra Amara dal 21 al 26 marzo. Zuleya si accorge che la sua amica Gulten è molto triste, dopo che Sani e Gaffur sono stati allontanati per non aver avuto rispetto nei confronti di Zuleya. Ma prima di iniziare, se vi va, lasciate like e iscrivetevi al canale, per non perdere le prossime anticipazioni. Grazie di cuore, per me è molto importante. Ripartiamo. Lei poi prende la decisione di parlare con Demir, per cercare di convincerlo a farli rientrare in villa. Subito dopo, come due amiche, andranno a fare shopping in città per il piccolo Adnan. Insieme incontrano Cetin, che le vede e si avvicina a loro. Si gira verso Gulten, e la guarda. Zuleya capisce che fra loro sta nascendo qualcosa, e la spinge ad andare, per dimenticare quello che è successo in passato. Passato un po' di tempo, Sanì e Gaffur tornano in villa, e ringraziano Unkar, credendo che sia stata lei a interferire per farli tornare alla villa. Ma lei non sa nulla. Infatti subito dopo convoca Demir, e si arrabbia, perché per l'ennesima volta lei non sa nulla delle decisioni che prende insieme a Zuleya. Demir gli risponde, che glielo ha chiesto Zuleya a causa di Gulten, perché non voleva più vederla così triste, e così ha deciso di farli tornare a lavorare in villa. Nell'ufficio di Demir si presenta un suo dipendente mostrandogli una borsa che lui ha trovato in mezzo ai campi. La apre e subito rimane con gli occhi spalancati. All'interno trova un documento e un assegno, che aveva preparato Unkar in cambio della testimonianza che sarebbe servita a scagionare Demir, e farlo uscire di prigione. Poi trova anche un biglietto aereo per Parigi di Sermin, dove lei aveva deciso di fuggire e la data di partenza era proprio il giorno esatto della testimonianza. In un secondo momento, alla villa Unkar avrà un confronto molto pesante con suo figlio, perché Demir le dirà che lei non gli ha raccontato la verità sui soldi che aveva dato a Sermin per farlo uscire di prigione. Durante la discussione, Unkar troverà il coraggio per dire a Demir che i suoi terreni li ha dovut vendere a Fecheli, perché nessuno voleva comprarli. In quel momento, proprio nel vivo della discussione, vengono interrotti da una telefonata che arriva a Demir dal pubblico ministero, dove gli dice che è stata ritrovata la pistola dell'assassino di Gengavier, e che le impronte non corrispondono alle sue, quindi lui è ufficialmente libero dalle accuse. A partire da quel momento, lui non è più un sospettato dell'omicidio, perché sarà assolto totalmente nello stesso momento, anche ad Atip arriva la notizia da parte di uno dei suoi dipendenti. Credeva che Sermin lo avesse tradito andando a testimoniare, ma non è stato così. Nel frattempo Mujgan si sfoga con Fecheli. Gli dice che Yilmaz è diverso nei suoi confronti, lo trova freddo e di stacco, ma lui cerca di rassicurarla dicendole che non è così, che è per colpa di Demir che lo fa proprio uscire di testa. Lei però gli risponde che era già arrabbiato ancora prima della scarcerazione di Demir, e che ci deve essere qualche altro motivo che però lui non le dice. Nei giorni successivi Demir deciderà di non ascoltare le continue critiche di sua madre, e sarà molto concentrato sul futuro che ha deciso di costruire insieme a Zuleyha, in particolare dopo aver scoperto che è innocente. Zuleyha era sicura della sua innocenza già dall'inizio, per questo per dimostrare che prende molto sul serio sua moglie, Demir deciderà di organizzare una grandissima festa con tutti i dipendenti, e tutte le persone intorno a lui. Però non sa che nello stesso momento, Yilmaz sta parlando con Fecheli e gli sta confidando che lui è pronto a partire con Zuleyha e Adnan, e che sta già mettendo in atto un piano. Durante la festa vedremo Zuleyha, che con l'aiuto di Gulten riuscirà ad andare via di nascosto dalla festa. Andrà di nascosto nel luogo concordato con Yilmaz. Alla villa c'è talmente tanta confusione, che nessuno si è accorto della sua assenza. Finalmente sta per arrivare il momento per fuggire insieme e stare per tutta la vita insieme. Zuleyha è felice, ma non sa come al solito che un'importante notizia farà saltare i loro piani, e non a fuggire insieme come avevano deciso. Infatti, mentre lei è in attesa nel bosco, Yilmaz va all'ospedale per dire a Mujgan che lui se ne va di casa e che la lascerà per sempre. Però troverà Mujgan felicissima, circondata dai suoi colleghi a festeggiare insieme a lei e a farle i complimenti, perché ha appena scoperto di essere in attesa del suo primo figlio e non vede l'ora di dare la notizia a Yilmaz. Lui, sentendo la notizia, rimarrà sconvolto e senza parole. Sa perfettamente che Zuleyha lo sta aspettando nel bosco, e che deve dare la notizia a Mujgan, ma non può. A questo punto il tempo passa, e Zuleyha, dopo aver aspettato tre ore, si renderà conto che Yilmaz non arriverà mai. Quindi, in preda alla disperazione, tornerà in villa. In quel momento però alla villa, si sparge la voce che lei è scomparsa. Demir, preoccupato, decide di prendere la macchina per andare a cercarla. Proprio in quel momento Zuleyha rientra in villa, e spiega che si è allontanata dalla festa per prendere un po' d'aria con il piccolo Adnan. Demir le crede, ma un cara è diffidente verso di lei, e la guarda con disprezzo, convinta che Zuleyha sta ingannando ancora suo figlio. Yilmaz, a questo punto non sa proprio come fare con Zuleyha, perché lei non lo vuole più vedere. Allora chiede ancora una volta l'aiuto di Gulten, per poter parlare con Zuleyha, perché vuole raccontarle tutta la verità, su ciò che ha fatto saltare la loro fuga. Ma Zuleyha, deciderà di non vederlo. Il giorno successivo Zuleyha, uscirà dalla villa e Yilmaz la seguirà. Riuscirà a fermarla sulla strada, e lì lui finalmente chiarirà l'accaduto con lei. Zuleyha, si arrabbierà moltissimo, e gli dirà che pensava che lui fosse morto, perché l'uomo di cui era innamorata, pensava che avrebbe mantenuto la sua promessa. Yilmaz però, durante il discorso di Zuleyha, si sente in dovere di dirgli la verità. Quindi gli confessa che Mujgan è incinta. Il silenzio cade tra di loro. In quel momento Yilmaz gli spiega tutto ciò che è successo quel giorno. Questa rivelazione arriva ad un finale assolutamente inatteso fra Yilmaz e Zuleyha. Le anticipazioni terminano qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate like ed iscrivetevi al canale, per non perdere le prossime anticipazioni. Grazie di cuore a chi lo farà. Ci vediamo al prossimo video, e ciao!